In questo periodo, a causa del coronavirus, esiste veramente un'emergenza sangue. Le notizie diffuse dai media come televisioni e giornali sono corrette, ma molti donatori regolari hanno però smesso di partecipare a causa della paura dell'epidemia e i centri trasfusionali sono in allarme. Ma come si legge sulla piattaforma web Donatori H24, il sito ufficiale di riferimento del mondo della donazione, donare si può e si deve anche in questo periodo di emergenza sanitaria. All'interno e all'esterno dei centri trasfusionali per tutelare la salute dei donatori sono in vigore le norme restrittive, le norme tra cui quella di far mantenere la distanza di oltre un metro tra le persone e quella di misurare la temperatura dei possibili donatori prima dell'ingresso. Sono rispettate anche dagli operatori sanitari al lavoro, i quali ricevono costanti aggiornamenti sul comportamento da tenere nel centro nazionale sano. In più, in questo periodo, le misure di pulizia e sanificazione all'interno delle strutture ospedaliere trasfusionali sono state aumentate per garantire un ambiente totalmente sicuro a chi sceglie di partecipare alla raccolta. Una circolare del centro nazionale sangue ha confermato che si dona su tutto il territorio nazionale, in tutte le auree anche in cui l'epidemia si è diffusa. Il sangue serve, sono state create condizioni per poter donare i donne in tutta sicurezza, tant'è che qui il centro trasfusionale di Fano ha cambiato il suo ingresso, non è più dall'interno comunque del Santa Croce ma si passa dal parcheggio attivo al pronto soccorso per cui non si viene in contatto con ambienti che sono comunque in emergenza per coronavirus ma si fa comunque un grande servizio alla comunità per cui invito tutti i fanesi, tutte le fanesi a donare e a farlo in tutta sicurezza al centro trasfusionale di Fano. Donare sangue è totalmente sicuro. Le trasfusioni vengono effettuate con materiale sterilizzato, usa e getta in ambiente protetto. Inoltre le sacche vengono messe in quarantena e se il donatore nei 14 giorni successivi alla donazione mostrasse sintomi, le sue sacche non verrebbero immesse nel circuito. E' bene sapere anche se il dubbio venisse nei donatori che sono autorizzati a uscire di casa per arrecarsi nei centri trasfusionali e nelle sedi di raccolta delle associazioni. La donazione di sangue e plasma è inclusa tra le situazioni di necessità previste appunto nel decreto del 9 marzo del 2020.